Una caduta di 200 metri è costata la vita ad una 55enne tedesca che questa mattina stava percorrendo la via ferrata dedicata a Bepi Martini che porta al campanile Colesei in Comelico Superiore. L'escursionista, secondo le parole del marito che era con lei, era perfettamente attrezzata ma nel momento dell'incidente era slegata dal cavo e l'appiglio a cui si teneva ha ceduto. Sul posto è volato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore che ha prontamente individuato il corpo della donna nel canalone in cui passa il sentiero che sale al rifugio Lunelli. Il medico e il tecnico di elisoccorso sbarcati con un bericello di 20 metri non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'escursionista la cui salma è stata imbarellata e poi trasportata in piazzola a Padola dove è stata affidata al soccorso alpino della Guardia di Finanza. Il marito nel frattempo è stato accompagnato a valle dai tecnici del soccorso alpino della Val Comelico.